Hai anche tu una rete vendita, una rete di commerciali che fatica sempre di più a chiudere contratti, a trovare nuovi clienti? È una situazione abbastanza comune, è la motivazione per cui le cose stanno così e andranno sempre peggio se non ti attrezzi. È in realtà molto semplice. È cambiato il modo di comprare, sia per clienti nel B2C, ma anche per clienti B2B. Quindi se i tuoi clienti sono aziende a cui ti riferisci per vendere i tuoi prodotti o servizi, beh, questa puntata fa per te. Oggi vediamo insieme come mai i vecchi modi di vendere non funzionano più e come mai le cose vanno cambiate, e anche velocemente. Ma perché ti parlo di questo? Perché io sono Umberto Masiello, il modellista dei Sarti del Web, e con la nostra azienda ci occupiamo tutti i giorni di aiutare imprenditori e imprenditrici a far crescere il fatturato e superare quel limite che sembrava insuperabile. E questo è il canale dei Sarti del Web. Ciao imprenditore, ciao imprenditrice. Oggi parliamo di un argomento abbastanza spinoso che ultimamente mi viene portato continuamente nelle consulenze su misura che diamo gratuitamente al nostro pubblico e ai nostri contatti. E l'argomento è... I miei commerciali sono demotivati, di solito usano... sono incazzati. E quando vado a indagare scopro velocissimamente il motivo. E i motivi sono tipo porta a porta, telefonate a freddo, liste, clienti, prese, chissà dove. Cioè... I commerciali, la tua rete vendita, non rende come prima. Il dato tuo aziendale, lo vedi nella cassa, non rende più come prima. Ma c'è un dato ancora più preoccupante. I commerciali sono incazzati. Il loro fatturato cala, le loro entrate calano. La loro giornata diventa sempre più snervante, più stressante. Perché? Perché i clienti non vogliono più parlare con loro. Attenzione, non è che i clienti non vogliono comprare. I clienti vogliono comprare come prima, più di prima. Ma non vogliono parlare con i tuoi commerciali. Non vogliono farlo. O almeno, non vogliono farlo se segui le tecniche tradizionali di vendita. Che oggi non funzionano più. E funzioneranno sempre, sempre meno. Ma voglio entrare dentro l'argomento. Voglio spiegarti molto bene di cosa stiamo parlando. Perché sono sicuro che nel momento in cui tu stai ascoltando le mie parole, stai rivedendo quello che succede nella tua azienda tutti i giorni. E sono sicuro che dopo questa puntata capirai al 100% che cosa devi fare per cambiare la situazione. Allora, guardiamo la situazione. Ficciamo un piccolo viaggio nel tempo. Andiamo indietro nel tempo. Com'era una volta? Allora, sai, io ho fatto il commerciale, l'ho fatto per molto tempo. È un lavoro, vendere mi è sempre piaciuto. Però le porte in faccia sono brutte. Cioè, fare il commerciale deve essere pronto a prendere delle porte in faccia, lo sappiamo. Fa parte della vita del commerciale, ma una volta se ne prendevano molte meno. Oggi invece è una valanga di porte in faccia tutti i giorni, di vaffanculi più o meno espliciti presi dai tuoi commerciali. Perché? Beh, facciamo un passo indietro nel tempo. Azienda, normalissimo azienda, arriva, la persona va dalla segretaria con la sua valigetta, il commerciale, dice vorrei un appuntamento con l'ufficio acquisti, con il capo, dipende dall'azienda. E un tempo cosa succedeva? La segretaria diceva, beh, il giovedì mattina abbiamo la giornata dedicata ai rappresentanti. Quindi tu arrivavi il giovedì mattina con la tua bella valigetta, giacca e cravatta, e c'era una fila di persone vestite come te in giacca e cravatta, con la valigetta come te, che entravano. Queste persone entravano una alla volta, dal cliente a proporre i propri prodotti o servizi. E poi in alcuni casi vendevano, in altri no. Oggi cosa succede? Oggi succede che quando sta arrivando il commerciale dalla segretaria, la segretaria lo riconosce a chilometri di distanza e sa perfettamente cosa deve fare. Tu arrivi e dici ciao, vorrei presentare la mia azienda alla tua, e la segretaria dice ferma, mi mandi una mail, mi mandi tutto via mail e le faremo sapere. Di che non è vero. Mi mandi tutto via mail e le faremo sapere. Cioè, un tempo la segretaria era addestrata dall'azienda a fare una lista di appuntamenti. Oggi è addestrata a scacciare la gente, a mandarla via. Sai che effetto fa il commerciale al tuo cliente quando va lì e bussa la porta, telefona a freddo, ciao voglio venderti questa cosa, o va dalla segretaria? Beh, hai presente quando sei a tavola all'ora di cena e ti squilla il telefono, ed è un call center che vuole venderti un contratto telefonico o un contratto dell'energia? Quanto fastidio ti dà. Sai, a me succede continuamente, succede anche a te, e io ho una risposta che do tutte le volte, è, t'ho chiamato io? No, non t'ho chiamato, quindi cosa vuoi da me? Io non ti ho cercato, non ho bisogno di quella cosa, se ho bisogno di qualcosa me la vado a cercare, e se trovo te, chiamo te, se no, ciao, quella è la porta, vaffanculo, non ti voglio vedere. Questo è quello che succede, identico, nelle aziende dei tuoi clienti. Magari, attenzione, tu gli stai proponendo qualcosa che gli serve, un prodotto o servizio utile, ma non lo vogliono sentire da te. Non vogliono te che arrivi e gli dici, ciao, oh, oh, non è che per caso ti serve il mio macchinario, la mia attrezzatura, la mia consulenza. Non lo vogliono, assolutamente, perché? Perché se non bisogna di quel macchinario, di quell'attrezzatura, di quella consulenza, vanno su internet, ta 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 ta, e scrivono, macchinario, consulenza, e poi studiano, misurano, valutano quello che fai, e poi valutano se venire da te o da qualcun altro. Guardano le tue pagine social, guardano il tuo sito, vengono colpiti dalle sponsorizzate, dalle annunci su Google, guardano YouTube, guardano i tuoi video, non hai idea di quanti guardino YouTube per prendere decisioni su cosa comprare, specialmente nel B2B, specialmente quando vendi ad aziende. Vogliono le informazioni prima, non vogliono che sia tua ad andare a dargliele, le vogliono trovare su internet, poi vogliono guardare la tua concorrenza, vogliono guardarli tutti, e poi scegliere da chi andare. E se ti contattano in questo modo, hanno già scelto. Ma fermiamoci, perché ci arriviamo dopo a questo aspetto del già scelto, e di cosa implica questo nella tua rete commerciale. Ma mi soffermo, e voglio che tu lo faccia con me, mi soffermo su come è cambiato il modo di comprare. Perché è così? Beh, te lo faccio con un tuo esempio personale, usciamo dal mercato delle aziende, andiamo sul mercato privato, devi comprare la nuova lavatrice. Per caso, perché sei rotta, o perché la vuoi cambiare, la vuoi più grande, la vuoi più potente, la vuoi quella che si gestisce con la app, no? E allora cosa si faceva una volta per cambiare la lavatrice? Si andava al negozio di lavatrici, al negozio di elettrodomestici, si parlava col commesso, perché non avevi altra scelta. Era l'unico modo per avere informazioni sulle lavatrici, il commesso. Poi sei un po' pignolo, andavi nel secondo negozio a parlare col secondo commesso. Se poi ero uno di quelli proprio fissati, che doveva avere tutte le informazioni, andavi nel terzo negozio, dal terzo commesso. Poi basta, finiti, tre commessi. Quelle erano tutte le informazioni che potevi avere. Tre, diavolo, di commessi. Oggi prova a scrivere lavatrice su Google. Sono milioni i commessi virtuali che rispondono alle tue domande. Milioni di risposte. Prova, ci fallo adesso. Lavatrice su Google. Scopri quanta roba viene fuori. Beh, se lo fai col tuo prodotto o servizio, fai la stessa cosa. Guarda quanti milioni di risposte vengono fuori. Milioni. Beh, il tuo cliente oggi non vuole più fare come prima. Non vuole più fare il giro delle lavatrici. Vuole fare esattamente come fai tu oggi se vuoi comprare una lavatrice. Vuole andare su Google, scrivere voglio comprare una diavolo di lavatrice. Andare su YouTube a vedere come funzionano i tutorial sulle lavatrici. Ti giuro, fanno così le persone. Io no. Io no. Quindi a me sembra assurdo. Magari neanche tu lo fai. Magari anche tu ti affidi al passaparola. Ma sta morendo. Io sono un boomer. E quindi non faccio questo genere di cose così facilmente. Ma lo so che più del 90% delle persone fa questa cosa. Vuole comprare la lavatrice. Va su Google. Va su YouTube. E inizia a fare ricerche. E succede che l'algoritmo la prende. E quindi inizia a vedere le pubblicità di lavatrici anche su Facebook, su Instagram, su TikTok, su YouTube, gli annunci su Google, eccetera, eccetera. Cioè il cliente oggi che vuole informazioni sulle lavatrici ha un mondo di informazioni da prendere. Un mondo infinito di informazioni da prendere. E succede uguale nel tuo prodotto o servizio. E sarebbe bello, sono d'accordo, che non lo facesse. E che aspettasse la telefonata a freddo del tuo commerciale che arriva a proporgli il prodotto o servizio. Ma non funziona così. Quindi se un'azienda ha bisogno di quello che vendi, se lo va a cercare, guarda te, guarda, se ti trova, bisogna vedere come sei organizzato online, guarda la tua concorrenza, ti mette a confronto. E poi sceglie e contatta. Contatta e dice, vorrei saperne di più. Beh, solitamente non lo fa con una sola azienda, magari lo fa con due, con tre. A volte, se sei molto bravo nella comunicazione, è solo con te. Ma quello è un discorso a parte, quello è il nostro lavoro, quello che facciamo tutti i giorni. Fare in modo che i clienti dei nostri clienti scelgano i nostri clienti al posto della concorrenza. E se vuoi anche tu un sistema che funziona in questo modo, con una facilità estrema, perché non devi farlo tu, lo facciamo noi, vai sui sarti del web.it slash tutor, richiedi un incontro gratuito, una consulenza su misura, gratuita e senza impegno, e ne parliamo assieme. E ti facciamo vedere cosa siamo in grado di fare. Procediamo. Oggi, se tu non rispondi online alle domande che il cliente non ti sta facendo direttamente, ma si sta facendo, le sta facendo a Google, le sta facendo ai social, se non le rispondi non scegli a te. Se invece li rispondi, se invece hai un sistema di comunicazione online efficace, magari applicando il metodo comunicazione su misura, per esempio, se hai un sistema di acquisizione contatti, acquisizione clienti efficace, succede questa cosa meravigliosa. Che non sono più i tuoi commerciali andare a bussare una porta, dire per favore dammi 5 minuti della tua attenzione che voglio provare a venderti qualcosa, se no anche questo mese sarò incazzato come una belva che la mia fattura fa schifo e il mio capo non guadagna abbastanza e la mia azienda crolla e le cose vanno male. Per favore compra, questo fanno i commerciali oggi se non c'è un sistema dietro. Beh, se c'è il sistema dietro succede l'opposto. Succede che il tuo cliente ti scrive e ti dice voglio saperne di più, voglio delle informazioni, non ti dirà mai voglio comprare, togliti sta fantasia dalla testa, anche se vuole comprare ti dice vorrei delle informazioni. Piano, perché ovviamente non si espone come non lo fai tu, no, non lo fa nessuno, vogliamo informazioni. Quindi dietro quella richiesta di informazioni diretta, è un cliente che contatta direttamente te, non ha scritto su Google voglio informazioni su, lo ha già fatto tante volte, finché non ha deciso. Chi contattare ti dice ciao, voglio proprio te, mi dai delle informazioni, ed è lì che tu gli scagli contro la tua rete commerciale. Ben preparata, una rete commerciale che sa come funziona la tua comunicazione online, che sa quali sono le procedure di vendita. Per un cliente che arriva dalla comunicazione online, cioè non c'è niente di fatto a caso qui, sia chiaro, è tutta tecnica, è specifico, i sarti del web non hanno inventato niente, non abbiamo inventato niente, siamo dei geni. Nel 2024, 2025 non si inventa più niente. Noi applichiamo tecniche, studiamo, testiamo, applichiamo e testiamo su di noi, e poi lo diamo ai nostri clienti. Quindi quando tu hai un sistema di acquisizione clienti online ben strutturato, secondo delle tecniche, è una rete commerciale che conosce le tecniche di vendita adeguate, e poi arriva il contatto già caldo, già pronto, vuole comprare ma non te lo dice, tu gli mandi il commerciale, bravo, che sa fare il suo lavoro, e si porta a casa il cliente. E qual è la grande differenza? Certo, il fatturato, grazie, stai vendendo di più, il fatturato cresce. L'utile, spero, se hai un buon sistema, nel fatturato c'è anche l'utile. L'azienda cresce, superi il tuo tetto di fatturato, quello che non avevi mai pensato di poter superare, ma succede anche un'altra cosa meravigliosa. Hai una rete vendita felice, felice che non vede l'ora di uscire domani per il nuovo appuntamento, perché non sta andando più a prendersi i fanculi di prima. Sta andando da clienti che dicono, oh grazie, che sei qui da me, spiegami com'è il tuo prodotto, com'è il tuo servizio, così mi aiuti a capire se ho fatto la scelta giusta chiamandoti. Questa cosa succede tutti i giorni, con un sacco di aziende. In Italia non ancora tante, perché la maggior parte sta indietro, sta facendo il porta a porta, sta facendo le chiamate a freddo. Ma ci sono aziende come i nostri clienti, come noi, che non vanno più a bussare a nessuno. Sono i clienti che bussano. Sono i clienti che dicono, per favore, posso comprare la tua merce. Capisci la differenza per la tua rete commerciale, che non deve più sbattersi tutti i giorni, testa per terra, per cercare di portarsi a casa mezzo cliente, invece, vado persone già pronte, che vogliono solo l'ultimo passaggio. Quell'ultimo pezzo che sta tra la pubblicità, la comunicazione online, e la vendita, e l'acquisizione cliente, il fattorato. Quell'ultimo pezzo è il tuo commerciale. Non deve più trovare i clienti. Sai, il pacchetto clienti, mamma mia, giurassico, giurassico, non c'è più quella roba lì. I commerciali non devono trovare i clienti, lo devi fare tu, è responsabilità tua a portargli i clienti. Perché oggi i clienti non si trovano più in quel modo di prima. Non lo possono fare i commerciali. Oggi i clienti si pagano con l'investimento in comunicazione online. Ed è compito tuo, non della tua rete commerciale. E non puoi dire alla tua rete commerciale, vai, ammazzati, vai, bussa tutte le porte. Com'è che si diceva, ogni cento persone chiudi un contratto, poi diventa ogni mille persone chiudi un contratto, ma che vita è? Poi ti lamenti se se ne vanno, ma per forza se ne vanno. Chiunque se ne andrebbe con una vita del genere. Qual è la differenza se invece i commerciali vanno da clienti che hanno chiesto l'incontro, che hanno detto per favore, vediamoci, ma ti rendi conto? È una differenza gigantesca. Poi chiederlo alla mia rete commerciale o a quella dei miei clienti, è un'altra vita. È un'altra vita perché non devi più convincere nessuno. Le persone sono già convinte. Devi fare quell'ultimo pezzettino. E i commerciali bravi quell'ultimo pezzettino se lo fanno così, se lo fumano. È un attimo. Specialmente se erano abituati, fino a ieri, a trasformare contatti freddi in clienti. È una roba difficilissima. Diventa una vita meravigliosa per i tuoi commerciali, per i tuoi clienti, per la tua azienda, per il tuo fatturato, per te. Cosa stai aspettando? Sei anche tu in quella condizione in cui tutti i giorni ti chiedi ma riusciranno i miei commerciali oggi a trovare un cliente, a portare un nuovo cliente in azienda? Ce la faranno a chiudere un contratto? Come faccio? Beh te lo dico io come fai. Vai sui salti del web.it slash tutor. Richiedi una consulenza gratuita e senza impegno. Ci mancherebbe. E ti facciamo vedere dove sei oggi e dove puoi essere domani. Come si può trasformare totalmente la tua azienda grazie all'implementazione di una piccola funzione. Piccola. che non devi neanche fare tu, la facciamo noi. Chiavi in mano, tutto pronto. Più di così. E' su misura, fatta apposta per te. E te ne dirò di più, te ne dico una in più. Non prendiamo neanche clienti in concorrenza, quindi lo facciamo per te, non lo facciamo ai due concorrenti, e li facciamo un... Non si può dire. Siamo capiti. Beh, spero di averti dato delle informazioni importanti perché se sei ancora nel porta a porta, nel consumare gomme dell'auto, suole delle scarpe, e caffè in un bar o in un altro per cercare di portarsi a casa un cliente, se hai una rete vendita che lavora così, cambia strada velocemente perché dura poco. Dura veramente poco. Il mondo è cambiato. E spero davvero che questa puntata ti abbia aperto gli occhi se era necessario. Quindi, sai perfettamente cosa fare. Risarti del web.it slash tutor. Siamo qui ad accoglierti, a meno che non abbiamo un cliente in concorrenza con te e in tal caso non ti possiamo prendere. Se non è così, c'è che di arrivare prima degli altri. Perché chi prima arriva in questo caso davvero meglio alloggia. Per oggi è tutto. Se vuoi saperne di più sui salti del web, sul nostro metodo, su quello che dicono di noi i nostri clienti, vai sui salti del web.it, quindi sul nostro sito, oppure cercaci su Google, il nostro canale, e troverai un sacco di informazioni, oppure puoi andare sul canale YouTube, sul social che usi più spesso, sul canale podcast che preferisci un po' ovunque. Perché oggi è così che si fa comunicazione online ed è così che si aumenta il fatturato delle aziende. Quindi, alla prossima puntata, buon lavoro e buona comunicazione online. Grazie a tutti.